Un appuntamento che volentieri vi consigliamo per venerdì 6 luglio, qui a Rocioffenna, a Pieve di Cropina, per essere più precisi, Stefano Luglioro, rappresentante della Proloco, ci presenta. Questo appuntamento musicale è sicuramente importante. Il concerto viene organizzato dalla Corale Santa Cecilia di Loro e nell'occasione si presenta insieme a altri gruppi corali con cui ormai collabora da anni e sotto la direzione del maestro Manganelli. Il maestro Manganelli, ricordiamo, è direttore della Cappella musicale del Duomo di Firenze, è un grande organista, quindi una persona, un ottimo maestro che logicamente è una garanzia per la riuscita del concerto.